Attenzione, treno di transito ordinario 3 allontanarsi dalla linea scelta. Attenzione, si ramezza perché è stato aprire le porte estense dei treni che salire o scendere quando non sono completamente dentro. Attenzione, treno di transito ordinario 3 allontanarsi dalla linea scelta. Attenzione, treno di transito ordinario 3 allontanarsi dalla linea scelta.